ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco e gli stil gel a cosa serve e gli stil gel a un parafarmaco appartenente alla categoria degli dispositivi per oftalmologia altri lenti a contatto vedi y 21 03 09 è commercializzato in italia dall'azienda ctspa informazioni commerciali titolare ctspa concessionario ctspa categoria di appartenenza dispositivi per oftalmologia altri lenti a contatto vedi y 21 03 09 forma farmaceutica gel confezioni e gli stil gel 30 contenitori monodose da 0,4 ml indicazioni e gli stil gel allevia i sintomi di secchezza dell'occhio di varia natura ha indicato per alleviare i sintomi del discomforto oculare derivato dall'uso delle lenti a contatto e gli stil gel ha inoltre indicato per la medicazione delle ferite e delle abrasioni della superficie oculare causate da eventi traumatici o susseguenti ad interventi chirurgici oculari modalità d'uso si consiglia di somministrare gli stil gel nel fornice congiuntivale la dose di una goccia quattro volte al giorno salvo diversa indicazione del medico istruzioni per l'uso lavare barra igienizzare le mani prima dell'uso assicurarsi che il contenitore monodose sia intatto staccare la monodose dalla strip afferrare il contenitore monodose dalla base e scuotere verso il basso aprire ruotando la parte superiore e tirare e gli stil già evitando che l'estremità del contenitore venga a contatto con l'occhio o con qualsiasi altra superficie inserire immagini con l'apertura della monodose descrizione e caratteristiche e gli stil gel contiene due polimeri naturali l'acido ialuronico e loxan tangham applicato nel fornice congiuntivale e gli stil gel si mescola la lacrima e forma un vendaggio lubrificante viscoso e trasparente riducendo l'attrito causato dai movimenti oculari e dall'ammiccamento e gli stil gel di a sollievo dai sintomi di secchezza dell'occhio causati da fattori ambientali e climatici quali polline polvere abbagliamento inquinamento uso di videoterminali inoltre gli stil gel protegge la superficie dell'occhio durante i processi di riparazione conseguenti a ferite o abrasioni l'assenza di conservanti rende il prodotto ben tollerato avvertenze non utilizzare gli stil gel se il contenitore aperto o danneggiato non toccare l'estremità del contenitore aperto e non metterla a diretto contatto con l'occhio altre superfici ciascun contenitore monodose va usato solo immediatamente dopo l'apertura l'eventuale residuo non deve essere utilizzato poiché gli stil gel non contiene conservanti e il prodotto rimanente potrebbe contaminarsi esponendo al rischio di infezioni oculari dopo l'apertura della bustina i contenitori monodose rimanenti devono essere utilizzati entro 12 settimane non utilizzare gli stil gel se non a trasparente conservare a temperatura non superiore a 30 gradi la somministrazione di e stil gel a bambini o persone con abilità limitata deve essere effettuata da parte di un adulto responsabile non utilizzare gli stil gel dopo la data di scadenza non disperdere il prodotto nell'ambiente dopo l'uso controindicazioni ipersensibilità verso i componenti del prodotto interazioni con altri farmaci o dispositivi medici per uso oftalmico non sono note interazioni del prodotto con la somministrazione di farmaci per uso oftalmico tuttavia per le proprietà fisiche del gel si consiglia di non somministrare altri farmaci o dispositivi medici per uso oftalmico nei 60 minuti successivi alla somministrazione di e stil gel il prodotto si ha dimostrato compatibile con l'impiego contemporaneo di lenti a contatto terapeutiche dopo intervento di chirurgia refrattiva prk si sconsiglia l'uso di altri tipi di lenti a contatto se non sono trascorsi 60 minuti dall'applicazione di e stil gel effetti indesiderati occasionalmente può manifestarsi bruciore lieve e transitorio per esclusivo uso topico oculare tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini componenti e ingredienti sodio ialuronato xan tangam sodio cloruro potassio cloruro magnesio cloruro esidrato calcio cloruro bidrato disodio fosfato dodecaidrato sodio fosfato monobasico monoidrato sodio citrato glicerolo acqua purificata fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato